Nella quarta puntata di tale e quale show, Deborah Iurato ha sorpreso tutti con l'imitazione di Laura Pausini. Fan dichiarata della collega, la Iurato ha ammesso di aver imparato il modo di pronunciare la parola grazie della Pausini e ha definito l'imitazione in questione la sfida per lei più difficile. Sfida vinta a tutti gli effetti. Sulle note del brano simili, indossando l'abito rosa portato dalla Pausini all'ultimo festival di Sanremo, Deborah si è calata in una performance che maleontica, in cui davvero si faticava a distinguere la finta Laura da quella vera le cui immagini scorrevano sul maxi schermo. Trucco e intonazione erano semplicemente perfetti. I complimenti dell'artista imitata non si sono fatti attendere. Laura Pausini, convalescente a causa della laringotracheite acuta che la ha costretta a cancellare cinque date del tour europeo, ha voluto manifestare le sue congratulazioni e l'aiurato con un tvette. Pensavo di essere io guardandoti. Mamma mia! Il mimetismo dell'aiurato ha conquistato anche il pubblico a casa, che ha fatto sentire la propria voce su Twitter. Chi se ne frega!